La chiesa di Santo Stefano a Candelara è di nuovo solida e senza crepe. Da qualche giorno infatti si sono conclusi i lavori di restauro e consolidamento resi necessari dal doppio sisma del 2016. La prima scossa di agosto aveva causato danni superficiali, ma quella del 30 ottobre 2016 ha aperto delle crepe profonde, tanto che in alcuni punti si poteva vedere attraverso il muro e dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco il parroco Don Giampiero Cernuschi era stato costretto a chiudere il luogo di culto per qualche giorno, in modo da poter puntellare le zone più a rischio e metterle in sicurezza. Grazie ai fondi dell'8x1000 però la parrocchia di Candelara ha potuto finanziare le opere di restauro e aprire il cantiere. Una task force composta dagli ingegneri Filippo Giovannini e Diego Ceccarini insieme all'architetto Maurizio Giannotti ha seguito con cura la parte tecnica, affidando il lavoro vero e proprio alla storica impresa Marinoni di Pesaro che ha completato le opere nei tempi previsti. Questo che è una delle chiese più importanti della provincia dal punto di vista artistico e anche come segno di presenza di una cultura a cui tutti ci rifacciamo, è un punto di riferimento a cui possiamo trarre non solo le radici della nostra fede ma anche le radici della nostra identità culturale di nazione italiana. Grazie ai fondi dell'8x1000, in poco tempo abbiamo avuto l'ok per procedere i lavori dopo una prima stima, è una forma di responsabilizzazione che sicuramente può giovare a tutta la comunità, non solo cattolica ma anche civile. I lavori sono costati circa 50.000 euro e fanno parte del lotto di interventi stasiati dal lotto per mille, un totale di 300.000 euro destinato anche alle chiese del castello di Novilara, di Lorenzola di Focare e Colombarone rimaste coinvolte nei danni del sisma del 2016. Le problematiche maggiori interessavano la zona della cappella feriale dove abbiamo risanato alcuni sette murari grazie all'impresa Marinoni, abbiamo fatto degli interventi di scuci-cuci che ovvero abbiamo risanato le connessioni delle murature, le pietre e i laterizi sostituendo quelli lisonati e inserendo della malta strutturale. In più abbiamo sostituito o rigenerato architravi sempre e soprattutto della zona della cappella feriale sia di ingresso interno che esterno, oltre a una cripa che si vede anche dall'esterno che interessava proprio il corpo della cappella feriale che stava un attimo distaccandosi dal corpo principale. Intanto però il terremoto è tornato a farsi sentire di nuovo a Pesaro con la scossa dello scorso martedì e proprio la ditta Marinoni è dovuta intervenire sui muri di cinta dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto puntellando e mettendo sicurezza il versante su via Belvedere e recintando anche la zona interna per impedire l'avvicinamento al muro.